16 nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo su 932 tamponi analizzati, il che significa che meno del 2% delle persone sottoposte al test è il risultato positivo. I casi registrati nella nostra regione quindi raggiungono oggi il numero totale di 2.964. 303 pazienti più 6 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 16 numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.560, meno 38 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 327 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri, 758 sono i guariti, più 45, di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 543 che hanno risolto i sintomi dell'infezione, sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 39.916 test, di cui 34.632 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monal Aquila, 764 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1316 alla ASL di Pescara e 641 alla ASL di Teramo. Dei 16 casi di oggi, 3 fanno riferimento alla ASL Lanciano-Vastochieti, 10 alla ASL di Pescara e 3 alla ASL di Teramo.